Buonasera ai telespettatori di Seida TV e benvenuti nello spazio informazione. A voi il sommario con le notizie più importanti della giornata. Alta Val Brembana, la situazione è difficile dopo la frana. L'appello del sindaco di Isola di Fondra. Per l'ex sindaco di Aviatico Dentella condanna a 4 anni e mezzo per peculato. Palazzina Popolare di Via Montegrigna, il comitato per la casa alla nuova amministrazione. Ritirate la denuncia. Città alta, da stasera si accendono le telecamere ai barchi ZTL. Chi sgarra sarà multato. Atalanta è fatta per il riscatto di De Catalar. Intanto voci danno i derazzurri interessati a Zaniolo. Partiamo con una notizia di Cronac. Condannato a 4 anni e mezzo l'ex sindaco di Aviatico Stefano Dentella l'accusa era peculato. Telefonate, cene e regali utilizzando denaro pubblico. Ed è arrivata per Stefano Dentella la condanna per il reato di peculato. 4 anni e 6 mesi di reclusione. La sentenza di primo grado che riconosce colpevole l'ex primo cittadino di Aviatico. Egli impone il risarcimento di 33 mila euro al comune, costituitosi parte civile, e la confisca di altri 23 mila che Dentella dovrà versare ancora a comune e stato. Per il 61enne al quale sono stati riconosciute le attenuanti generiche anche l'interdizione ai pubblici uffici per 5 anni. L'imprenditore seriano, amministratore della controllata Montepoglieto SRL, dopo l'esperienza come amministratore pubblico, ha tentato fortuna in Val Brembana. Suo l'acquisto degli impianti del Val Carisole di Carona, ritirati dal fallimento della Brembo Ski, e facente parte della storia infinita della compravendita legata al comprensorio dell'alta Val Brembana e di Foppolo. Ora gli avvocati difensori aspetteranno tre mesi per le motivazioni e per decidere l'eventuale appello. È stata una notte di apprensione a Mornico per la scomparsa di un bambino di 10 anni. La denuncia di sbarimento effettuata dalla famiglia era arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì e subito sono scattate le ricerche. Il piccolo è stato ritrovato nella mattinata di giovedì 13 giugno, mentre dormiva riparato sotto un'auto in sosta. Le ricerche si erano concentrate nella zona del canale Zerra, che è stata scandagliata con l'ausilio di droni e della camera termica, ma senza alcun risultato. Alle 8 di giovedì 13 giugno sono arrivati anche l'elicottero, le unità cinofile, la protezione civile e i sommozzatori che hanno ripreso le ricerche con la luce del sole. Proprio pochi minuti dopo l'inizio della seconda fase delle ricerche, per fortuna il bambino è stato individuato e sta bene di salute. E parliamo ora della situazione in Alta Val Brembana, dopo la Frana, l'isola di Fondra e Trabuchello. Lo facciamo proprio col primo cittadino dell'isola di Fondra, con Carlo Forchini, che abbiamo in diretta telefonica. Allora, Sindaco, innanzitutto benvenuto nel nostro telegiornale. Le dico e le chiedo qual è la situazione attuale nella vostra zona? Allora, la situazione attuale è che stanno cominciando i lavori per interventi di somma urgenza. Praticamente abbiamo preparato un piccolo progettino per mettere in sicurezza il tratto più rischioso. Poi stiamo preparando la scheda rasda entro domani invece per l'intervento strutturale vero e proprio, perché è una valle ripidissima e si presta praticamente nella quota alta a dei turbini di acqua e come succede praticamente è successo in anni passati anche in altre valli qui nostre che praticamente di volta in volta o prende una valle o prende l'altra e scarica delle quantità di pioggia altissime fuori dal normale su tratti e su superfici praticamente anche abbastanza limitate, generalmente in corrispondenza di creste di montagne rocciose. Picchia dentro lì in forte intensità, poi entra praticamente nei tratti dei reticoli idrografici minore e arriva giù praticamente vicino alle case o in ogni caso sulla strada provinciale. Come in questo caso praticamente ha portato giù quasi 500 metri cubi di materiale, terroso, sassoso, ghiaioso, praticamente l'ha depositato sulla strada provinciale. Ecco, sindaco, le chiedo, adesso la previsione dei lavori mi sembra di capire che ne avremo ancora per qualche mese perché non sono lavori, a parte la messa in sicurezza, poi i lavori sono lunghi e anche costosi mi sembra di pensare. Allora, praticamente la provincia ha già provveduto a spostare i quasi 500 metri cubi di materiale che era sulla strada provinciale, però il tratto di strada provinciale per 500 metri resta chiuso e praticamente la viabilità al resto del paese di Trabuchello e poi del paese di Branzi, Valleve, Popole e Carona viene garantita perché prima e dopo la Prana ci sono due ponti praticamente comunali e c'è la via che passa nel centro di Trabuchello, quindi praticamente diciamo che in questo modo per fortuna è venuto giù in un tratto dove c'è un percorso alternativo, certo è un pochino più stretto dalla strada provinciale però intanto garantisce il collegamento. Certo, anche perché sta iniziando la stagione estiva e quindi anche turistica e quindi è importante garantire ai turisti la viabilità. Le faccio l'ultima domanda, per quanto riguarda i fondi, mi sembra che lei sia anche preoccupato per questi fondi che voi chiaramente non potete anticipare, non avete casse comunali così capienti. Ma noi praticamente sulla questione dei fondi siamo già in difficoltà però perché erano state messe nel PNRR che abbiamo finito praticamente una in paravalanghe, abbiamo praticamente ottenuto soltanto il 30%, abbiamo finito a fine novembre del 2022, la ditta ci ha fatto causa però noi praticamente non eravamo in condizione di pagare. Poi piano piano siamo riusciti a tirare insieme un po' di fondi usando teoricamente anche in questo caso dei fondi che forse non potevamo usare e poi anche altre opere praticamente che bisogna che il comune anticipi, ma i comuni piccoli, nel nostro caso possiamo fare un prestito solo di 158 mila Euro l'anno scorso e quest'anno forse 180 mila Euro, però praticamente prima di prendere quello di quest'anno dobbiamo praticamente pagare quello che abbiamo preso l'anno scorso. Grazie sindaco, io da queste sue parole capiamo quanto sia difficile fare il sindaco, lei è appena stato rieletto proprio nel suo comune, le facciamo un grande in bocca al lupo, un buon lavoro e ci risentiremo per sapere come sta andando in quella zona durante l'estate. Grazie molte, quello che le posso dire è che noi siamo un comune particolarmente colpito, però è un problema che riguarda un po' tutti i piccoli comuni dall'Alta Valle Brembana che hanno avuto praticamente dissesti e cose di questo tipo, va bene? Grazie mille, grazie e buon lavoro. Parliamo ora dell'impegno del Comitato per la Casa e l'appello lanciato alla nuova amministrazione. La questione della palazzina popolare di via Montegrigna 11, quartiere Celadina, torna in auge. A riportarla in vita il Comitato di lotta per la casa che nel 2014 con un gruppo di attivisti occupò lo stabile come mossa eclatante per aiutare persone fragili che non riuscivano a trovare un alloggio. 50 quelle che trovarono un rifugio qui. Per il Comitato un'azione che puntava a riqualificare una palazzina abbandonata. Per il Comune di Bergamo un illecito che ha convinto Palazzo Frizzoni a costituirsi, parse il civile, chiedendo 15 mila euro per ognuno dei cinque imputati. La prima udienza del processo è fissata per il prossimo 19 giugno, ma il Comitato si rivolge ora alla nuova amministrazione in fase di costituzione dopo l'elezione di Elena Carnevalia, sindaca della città, chiedendo una sola cosa. Noi abbiamo portato tutta una serie di immagini, di dati dalla nostra esperienza che mostra come il nostro ingresso non sia assolutamente stato un disvalore, ma al contrario si sia preso cura del caso che abbiamo abitato nel tempo, risistemandole fisicamente anche. Per cui diventa abbastanza ridicola questa ricerca del Comune, tutto al più che con il compito noi all'uscita abbiamo parlato, abbiamo discusso e allora avevano riconosciuto il valore sociale di questa esperienza. Per cui quello che noi chiediamo, e non è non vogliamo pagare, quello che noi chiediamo è che questa nuova amministrazione ritiri questa cosa del costituirsi parte civile, perché questo non riconosce quello che già avevano riconosciuto che è il nostro valore. L'occupazione era rimasta in atto fino al 2020, poi il Covid ha convinto gli attivisti a sciogliersi, ma da quel momento il Comune di Bergamo non ha più messo mano alla palazzina, che ora risulta ancora abbandonata. Giornata del donatore, ecco la storia di chi ha ricevuto il grande dono. Sono molte le persone che ogni giorno nei nostri ospedali hanno bisogno di sangue per superare malattie o momenti difficili di salute. Il sangue è indispensabile negli interventi chirurgici, nei trapianti di organo, nella cura di malattie oncologiche, nelle forme di anemia cronica e nei servizi di primo soccorso e di emergenza, come nel caso di incidenti gravi. Ma il sangue serve anche per la produzione di farmaci. La lavorazione che permette la trasformazione e la produzione dei farmaci emoderivati parte dalla raccolta di sangue intero. Di sangue dunque c'è sempre tanto bisogno. A ricordarci l'importanza di non abbassare mai la guardia, si celebrerà domani la giornata mondiale del donatore di sangue. Abbiamo la realtà della raccolta lombarda che soddisfa al fabbisogno non solo della nostra regione ma anche delle regioni che sono in deficit di raccolta per quanto riguarda il sangue intero. Mentre soffre la carenza di un 30% circa del fabbisogno per quanto riguarda la raccolta di plasma. Donare il sangue è quindi un gesto semplice che può salvare vite, come quella di Andrea Minghini, ex donatore Avis, che ha superato una grave malattia anche grazie alle trasfusioni ricevute. Ho avuto un linfoma e nelle cure che ho dovuto subire, ho dovuto subire cicli di chemioterapie, ho anche ricevuto il sangue. Il sangue per me è stato fondamentale per riprendermi e per darmi la possibilità poi dopo di affrontare l'autotrapianto di cellule staminali. Un'esperienza di vita difficile che lo ha spinto a voler fare un importante gesto altruistico per aiutare concretamente chi ha bisogno di trasfusioni o di emoderivati. Sempre nel 2018, durante la mia malattia, ho voluto rifondare insieme a dei miei amici il gruppo Avis Boccaleone, che ad oggi è composto da circa 150 utenti. Siamo un gruppo che pubblicizza molto la donazione del sangue e che spinge i nostri utenti a fare donazioni. Quindi vi faccio un appello, donate perché donare fa bene. Grazie. E a proposito di donazione, l'Associazione Oncologica Bergamasca ha donato all'ospedale di Bergamo un dispositivo a micro-ultrasuoni che sarà utilizzato dagli specialisti di urologia per affinare la diagnosi del tumore alla prostata. È il primo ospedale pubblico in Lombardia a vantare questo strumento. Grazie alla sua elevatissima risoluzione, l'ecografo di ultima generazione permette di una migliore definizione del tessuto prostatico e una maggiore possibilità di identificare eventuali lesioni sospette. Lo strumento è già entrato in funzione e sono centinaia i pazienti che potranno avere vantaggio. Basti pensare che ogni anno all'ospedale Papa Giovanni XXIII vengono eseguite circa 800 biopsie prostatiche e che oltre 400 pazienti sono attualmente seguiti da urologia nei protocolli di sorveglianza attiva. Cambiamo decisamente argomento, parliamo della ZTL e Città Alta. Da stasera non si scherza più, si fa veramente sul serio. Si accendono questa sera, giovedì 13 giugno, le telecamere e i varchi di accesso della nuova ZTL di Città Alta. Il nuovo perimetro è stato tracciato da un mese e mezzo circa, ma fino a qui il Comune ha previsto un periodo di prova e di tolleranza per permettere a tutti i bergamaschi di adattarsi e di ottenere i pass. Ora però non si può più sgarrare, pena, la multa. L'accesso a Città Alta non è cambiato negli orari. Giovedì, venerdì e sabato la ZTL scatta dalle 21 alle 1 di notte, mentre nei festivi non si può salire dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19. Con l'apertura del nuovo parking della Fara, tuttavia, sono cambiate alcune cose. Le auto potranno salire anche negli orari di chiusura, a patto che parcheggeranno in uno dei tre parcheggi a pagamento. Alla Fara, in via Trearmi o nel parcheggio alla partenza della funicolare alta. Va ricordato anche che sono cambiati due varchi, uno quello sul viale Vittorio Emanuele, l'altro in via Locatelli. Sul viale il varco si è spostato qualche metro più verso il centro città, trovando posto all'altezza della rotonda della Galleria Conca d'Oro. Su via Locatelli il varco invece si trova all'incrocio con via Brigata Lupi, dove la viabilità è stata modificata con una revisione dei sensi unici. Comune di Bergamo e Polizia Locale consigliano di accertarsi della disponibilità di posti liberi nei parcheggi segnalati nei cartelloni luminosi posti ai varchi per evitare spiacevoli multe. Ora torniamo a Bergamo, quartiere Carnovali, al via la pulizia dei parchi. Muniti di guanti, sacchetti e tanta voglia di rendersi utili, da tre mesi gli studenti dell'Istituto Bambino Gesù, i frequentatori del centro per tutte le età di Carnovali e di MyLab, si riuniscono per ripulire insieme strade e parchi, coordinati dai volontari di Legambiente. Un progetto nato dal basso che ha l'obiettivo di sensibilizzare i residenti e chi vive il quartiere per studio o lavoro sulla cura degli spazi condivisi. L'opportunità di avere il CTE, avere con noi MyLab, la scuola e avere anche qualche utente del CTE che ogni mese con noi viene a dare un senso civico, tangibile, è un sogno che si realizza. L'obiettivo di renderli più consapevoli nell'utilizzo degli spazi propri ed altrui, e quindi anche quelli comuni, è stato per noi un processo importantissimo. Per contribuire a rendere il quartiere dove MyLab è, e dove MyLab vive quotidianamente tutti i giorni, un posto più pulito. Un'attività educativa che però si è trasformata anche in un'azione pratica. Nelle prime tre giornate sono stati raccolti 38 sacchi di rifiuti abbandonati. Abbiamo trovato di tutto, oltre a bottiglie di plastica, bicchieri di plastica, a 5 metri dai cestini della spazzatura. Oltre a plastica e sigarette, ho trovato anche del vetro. Sono molto arrabbiata perché non hanno educazione per niente. Il polistirolo in terra, anche le sigarette. Ho pulito, è stato bello, mi è piaciuto. Le mattinate di pulizia proseguiranno fino a novembre, tra il Giardino Scarpati, il Parco di Via L'Olmo, il Giardino Loi e il Giardino Berizzi, coinvolgendo partecipanti di tutte le età e abilità. Stanno bene insieme e sono anche un sostegno reciproco. Si guardano a vicenda, si scoprono curiosità. È come se di generazione in generazione si creasse un po' una cultura del voler bene ai luoghi verdi che abitiamo. Evviva! E noi ci fermiamo per qualche consiglio per gli acquisti. Ci ritroveremo con le news sull'Atalanta, ma non solo. Ben ritrovati con le notizie di Sailor TV News. News sull'Atalanta e soprattutto su un giocatore, un grande talento che con la cura Gasperini è tornato ad essere molto importante per il gioco d'Atalanta. Charles de Cattelar. Più una telenovela d'inizio estate giornalistica che una verità, quella delle titubanze della dirigenza atalantina nei confronti del riscatto di Charles de Cattelar. Ed infatti è arrivata la notizia dell'accordo raggiunto con i dirigenti del Milan. 22 milioni di euro, uno in meno rispetto ai 23 chiesti dei rossoneri la scorsa estate, ma tutti soddisfatti. Dieci le reti segnate dal belga in Serie A con la maglia bergamasca, due in Europa League con la vittoria del trofeo e due in Coppa Italia. In più, 11 assist e una qualità generale che ha convinto società e soprattutto mister Gasperini. Voce di mercato insistente è quella che vede l'Atalanta seriamente intenzionata all'ingaggio del fantasista Zaniolo. Giocare la Champions in Italia è allettante per l'ex gioiello Roma, attualmente a West Ham. E sul talento del 24enne non si discute. Con la cura Gasperini potrebbe definitivamente sbocciare un campione. Notizia culturale e artistica. Dopo sei mesi di lavoro si è concluso il primo restauro dell'anno curato dalla Fondazione Credito Bergamasco all'interno del progetto Grandi Restauri. Il monumentale dipinto di Sebastiano Ricci, raffigurante San Pietro in carcere liberato dall'angelo. A partire da oggi fino al 4 luglio 2024 l'opera verrà esposta a Palazzo Kreberg con ingresso libero nei giorni feriali dalle 9 alle 13, prima della ricollocazione nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo in Trescore Balneario. E ora le notizie dei nostri cieli, cieli bergamaschi. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Trebi Meteo! Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole prevalente sulla Lombardia da segnalare solo un po' di variabilità sui rilievi. Le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con punte intorno ai 26-27 gradi. Vediamo in rana dettaglio la provincia di Bergamo, cieli sereni o parzialmente nuvolosi nella giornata di venerdì con temperature massime che si aggireranno intorno ai 24-25 gradi. Anche nella giornata di sabato sole prevalente con qualche nuvola di tanto in tanto e temperature massime intorno ai 25-26 gradi. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni può considerarsi chiusa alla parentesi dell'instabilità. Ci attendono infatti giornate con sole prevalente e temperature in ulteriore ripresa con punte che riusciranno anche a sfiorare i 28 gradi. Ma per maggiori dettagli in merito alle vostre località scaricate l'app di Trebi Meteo. E per le vostre segnalazioni scrivete a redazione chiocciola seilatv.tv E' veramente tutto per questa edizione. Una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.